Nell'ultima lezione abbiamo esaminato l'uso della funzione del metodo filter che dato un risultato fornito dalla prima parte del comando di ricerca espresso con jQuery applica appunto una condizione per individuare un sottinsieme dell'insieme principale ritrovato. Ma la struttura di una pagina HTML, come dovreste ben sapere, è fortemente gerarchica secondo il modello del DOM, Document Object Model, e cioè abbiamo una serie di nodi che sono parenti di altri che rappresentano i loro figli. Quello che state vedendo in questo momento è un esempio di quello che stavo spiegando. Abbiamo un primo div, poi lo vediamo anche con il codice, di colore blu, che al suo interno ne contiene uno di colore rosso, che al suo interno ne contiene uno di colore verde, e così via. Quindi potremmo dire che tutti i blocchi più interni, dal rosso al nero, sono in qualche modo figli, discendono da quello blu, e il verde, il giallo e il nero sono comunque figli del rosso, e così via. Ora potrebbe interessarci applicare una modifica su tutti i scendenti di un certo tipo, non è detto che devono essere per forza altri div, avrei anche potuto inventarmi una gerarchia, ad esempio utilizzando le liste, ordinate o ordered o unordered, che a loro volta potrebbero avere come item dalle sottoliste, e così via. All'interno avrei potuto avere delle immagini, e mi sarebbe potuto interessare fare qualche cosa con tutte le immagini che sono discendenti, ma a qualsiasi livello, partendo da un certo nodo del DOM, partendo da un certo punto di questa lista. Qui mi sono inventato questo meccanismo, che semplicemente va a cambiare il bordo, non di tutti gli eventuali div che potrebbero essere presenti, oltre a questi, sulla pagina, ma solo di quelli che sono fish and end del div blu, a cui ho dato un nome, ovviamente. E' da notare che la selezione dei div a cui ho cambiato il bordo, non sarebbe stata possibile applicando semplicemente un filter. Certo, avrei comunque potuto trovare un altro modo, e magari anche applicare il filter, però con qualche arzigogolo, con qualche marchi in genio, non in modo naturale. Ormai vi dovete abituare al fatto che non c'è mai una sola strada per arrivare a una certa selezione di elementi del DOM. Ce ne sono però di quelle che sono più eleganti, perché più semplici e più immediate di altre. Bene, in questa situazione, il comando da usare, quindi non è il filter, ma il find. Diamo un'occhiata al codice, dove potete vedere che ho preferito iniziare una nuova pagina, jQuery find. Ormai andate in automatico sulla parte che precede il body, mettendo il riferimento alla libreria jQuery. Io in questo momento sto usando la 1.6.1, ma non importa. Dunque, ecco il body, come vi dicevo. Qua abbiamo il primo div, quello blu, a cui ho assegnato come ID principale. E poi lo style, che si ripete abbastanza quasi identico, direi, per i vari div. Ho fatto un po' il pigro, non ho pensato di usare una classe e di cambiare poi solo il colore, di fatto. Perché vedete che tutti sono alti 400, quasi quasi la ristrutturo un secondo, perché diventa anche un pochino più semplice seguire. Quindi un attimo di macchiage. Ho aggiunto qui un blocco style, ho definito una classe chiamata blocco, punto blocco. E ho applicato le caratteristiche comuni, altezza 400 pixel, larghezza 400 e un padding di 50 pixel. E poi chiaramente ho applicato la classe blocco a tutti i div. E ho lasciato nello style soltanto la diversificazione sul colore dello sfondo. Il bottone dopo i div ha un evento on click, che è quello che scatena il tutto. Richiamo lo script, la funzione test find, il cui script si trova ovviamente sotto. Per avere il bottone comodamente piazzato in questa posizione, ho usato nello style un posizionamento di tipo fixed. Che vuol dire che il bottone viene tolto, l'elemento viene tolto dal normale flusso di impaginazione. Per gli altri elementi è come se non esistesse, e posso disporlo utilizzando le proprietà top 10 pixel, cioè dall'alto scendi 10 pixel, e da destra 500 pixel. Ovviamente abbiamo anche il bottom e il left, volendo. Find è la scritta che appare sul bottone, chiaramente. Andiamo a vedere lo script test find. Ormai vi ho abituato che con una riga si fa tutto. Prima o poi riuscirò a scrivere anche due righe di fila col jQuery. Con questo primo comando di selezione jQuery, aggancio quello che è il genitore, il contenitore di tutti gli altri. Anzi, il genitore. Perché se tutti questi div fossero allo stesso livello, e quindi come tanti rettangolini contenuti internamente quello blu, allora dovrei parlare di contenitore, vabbè che sarebbe anche, allo stesso momento, anche genitore. Ma qua è più evidente il legame e discendenza. Per cui questi div non sono allo stesso livello, sono ciascuno figlio discendente del precedente. Bene. Allora, questo selettore, siccome è incentrato sul id, mi aggancia e mi restituirebbe come insieme degli elementi DOM selezionati da jQuery, soltanto il div blu. Ma su quello io comando. Trova nei discendenti, nei figli, quindi nei discendenti, di quell'elemento DOM, di quel div, tutti gli elementi di tipo div. E quindi trova il rosso, il verde, il giallo e il nero. E su questi comanda questo cambio di stile. Il bordo deve diventare bianco, spesso 2 pixel e è tratteggiato. Che è quello che mi avete visto fare pochi minuti fa. Quindi attenzione, non confondete il filter, che lavora aggiungendo un criterio di selezione su elementi che però sono stati selezionati dalla parte che precede di selezione, ma non va a scavare dentro i figli di questi. Rimane in quelli insieme. Ne scelgo alcuni. Filter. Ovvio che non avrebbe senso applicare il filter quando il selettore va sull'ID, perché è ovvio che se ne trova, ne trova uno solo. Se fosse selezionami tutti quelli di classe blocco, ecco, tutti quelli di classe blocco, così, allora questo selettore, nell'insieme dei trovati metterebbe il blu, il rosso, il verde, tutti, perché tutti sono di classe blocco. E in questo insieme applicherei un filtro. Quindi escluderei alcuni di questi div. ma questa selezione, questa modalità avrebbe funzionato anche se gli elementi di classe blocco non fossero uno figlio dell'altro. Potrebbero essere anche sparpagliati su tutta la pagina in elementi DOM diversi e comunque questo selettore li avrebbe raggruppati nell'insieme risultato. Bene, su quei dieci elementi tipo punto blocco sparpagliati per la pagina dico, bene, applico un filtro. Però quel filtro agisce solo su di loro. Non va a guardare dentro di loro i discendenti. Per ottenere quel tipo di scansione devo utilizzare appunto il find. Il find cerca nei discendenti di ciascun elemento selezionato dalla parte che precede della sintassi GQ di selezione. E è doveroso sottolineare che il termine proprio corretto è discendenti. Qualche volta probabilmente mi è scappato la parola figli. È una cosa diversa. Perché possiamo dire che il rosso è figlio del blu ma il verde tecnicamente non è figlio del blu. È figlio del rosso. È discendente del blu. Questo è importante tenerlo presente perché poi avremo anche la possibilità con un metodo diverso di andare a selezionare i figli e i fratelli degli elementi del DOM. Rimaniamo in tema di navigazione sulla struttura del DOM della pagina. Ci sono delle comode funzioni che permettono di passare da un elemento successivo oppure tornare al precedente e cose di questo tipo. Ad esempio guardate cosa riesco a fare con una sola istruzione GQ con il bottone GO. Vado a cambiare il colore a questo elemento della lista e quest'altro di colore diverso è in grassetto. In effetti se ci pensate con quello che avete a disposizione fino ad ora non ci si riesce perché potrei certamente selezionare i figli di tennis o in qualche modo dare una classe sia a maschile che femminile in modo da catturare con un comando di selezione sia maschile che femminile. Ma poi quello che devo fare su uno e sull'altro sono cose diverse. Quindi apparentemente sembrerebbe che l'unico modo per ottenere questo effetto è di dare due comandi GQ il primo che va a lavorare su maschile e l'altro che va a lavorare su femminile. Ovviamente è sbagliato perché si può fare anche con una sola istruzione che ora vediamo. beh, la parte HTML di questa nuova pagina è banale è quasi identica alla precedente dovete solo sostituire al blocco dei div questa nuova parte con la lista. abbiamo una lista principale di tipo unordered che contiene due LI questo che è il blocco del tennis e l'altro che è il blocco dell'atletica. L'LI del tennis notate poi che ho assegnato per praticità proprio a tutti un ID che corrisponde alla lettera iniziale dicevo questo LI a sua volta contiene un'intera altra lista di tipo ordered da cui la numerazione 1-2 con dentro due LI per il tennis maschile e femminile e per la parte dell'atletica nel suo OL abbiamo i due LI per l'indoor e l'outdoor quindi semplicissimo il bottone questa volta l'ho chiamato semplicemente test e basta perché dovrò provare diverse cosette ho sperimentato invece per cambiare un po' il left quindi ho dato la sua posizione dicendo quanto spazio devo lasciare dal bordo sinistra 200 prima era right 500 cioè stavo dicendo quanti pixel lasciare dal bordo destro vabbè giusto per sperimentare un po' tutte le possibilità vediamo allora l'istruzione l'unica nella funzione text prima aggancio femminile avrei anche potuto agganciare maschile su questo risultato cioè sull'unico elemento che è l'li corrispondente al femminile cambio suo colore in rosso e qui il trucco posso continuare cambiando posizione punto prev significa bene dal punto in cui sei sul DOM vai al precedente elemento che è dello stesso tipo lo stesso livello quindi sei al siamo sul secondo li di questa lista della lista vai alla precedente cioè da femminile vai a maschile e poi prosegui punto css il color diventa blu e qua altra cosa carina che mi sembra di aver mai sperimentato con voi posso ripetere un'altra volta punto css e in percussione visto che non ho cambiato posizione questo comando va ad agire sullo stesso elemento maschile a cui ho già dato il colore blu e a cui ora assegno il grassetto come font weight bold di nuovo ottenere di più scrivendo di meno dicevo prima che si poteva ottenere la stessa cosa agganciando non il femminile ma il maschile devo però invertire a questo punto questa parte perché se questo qua questo effetto deve essere comunque applicato al maschile dobbiamo fare così quindi aggancio il maschile lo metto in blu in grassetto poi questa parte qua in fondo non va più bene la tolgo utilizzo non il previous ma il next vuol dire guarda eri sul maschile vai al prossimo elemento al next allo stesso livello cioè al prossimo li punto next css color red salvo vado ad eseguire e vedete che ho ottenuto la stessa cosa sono solo partito da un punto diverso sempre di più sempre con una sola istruzione go come prima e in più vado a mettere un bordo e cambio anche la larghezza di che cosa su cosa ho agito sul parent cioè sul genitore dei due elementi li cioè sul ol che rappresenta appunto il loro genitore quindi dopo previous e next abbiamo anche incontrato il punto parent vedete fin qui avevo modificato il femminile prima maschile femminile poi dico bene da dove sei vai al parent punto parent poi sono anche andato a capo non c'è problema parent aggancia siamo qui ero sul femminile stavo dicendo femminile bene vai al parent di questo li chi è il parent o questo l quindi sto comandando come giusto questo il bordo del parent cioè di quel ol diventa un pixel solido tratto continuo green verde poi non solo altro comando non mi sono spostato quindi viene ancora applicato all'ol la larghezza 150 pixel altrimenti questo bordo ci sarebbe esteso per tutta la pagina e ora cosa mi sarò inventato go è ancora più complicato e naturalmente sempre con una sola istruzione mi sono spostato in una zona completamente diversa del dom come avrò fatto beh se ci pensate qua siamo con il bordo verde sul ol posso comandare un parent e andare su tennis che è il primo degli li della ul più esterna da qui posso applicare un next e arrivare su atletica in fondo per chi ha avuto modo di lavorare con i comandi della shell del dos o di linux assomiglia molto al modo di navigare tra le cartelle del disco utilizzando facciamo l'esempio del dos il famoso comando cd cambia directory e mettendo punto 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 per risalire e poi scendere con lo slash nome delle cartelle il punto punto che è quello che ci manda a livello superiore è appunto il parent da qui parent a tenix e poi al fratello che è atletica quindi next bene ma a questo punto non so come selezionare questi due signori per metterli in rosa perché non posso comandare il next mi manderebbe su un terzo pallino di un terzo tipo di sport che non c'è il next ma indoor e outdoor sono invece i children i figli di atletica e quindi posso applicare punto children e poi punto css e mettere in rosa ecco prima eravamo arrivati qui e siamo sull'elemento col bordo verde cioè l'ol se a questo punto comando parent e comprimiamo la struttura questa beh no teniamo così parent va da questo livello che è questo li il primo li da qui con un next salto ad atletica parent next e di atletica prendo i children cioè gli altri due li interni l'indore l'outdoor e l'icoloro di rosa forte siamo siamo verso la fine della lezione affrontiamo ancora un paio di comodi metodi che sono poi derivati dei precedenti ho aggiunto vedete qui una terza voce con un po' di inventiva atletica in ambiente convertibile tra aperto e chiuso bene se io volessi cambiare con una sola istruzione colore a questi due certamente un modo già lo sapete e cioè andare prima su indoor poi fare next cambiare e poi fare ancora next cambiare se però avessi qui sotto 7-8 voci diventa un po' ripetitiva la cosa possiamo fare di meglio per ottenere un effetto di questo tipo navigare e agganciare prima l'indore magari tramite il suo id che è i e poi dire next all tutti tutti successivi e otteniamo appunto questo qua ho commentato il precedente codice perché a questo punto interferirebbe ecco quello che dicevo aggancio quella voce lì l'indore e poi dico next all tutti successivi cambia il colore in blu finisco dicendo che c'è anche non sto neanche a provarlo provate voi insomma agganciate il convertibile e poi e dai alla fine li conosco quindi aggancio il convertibile c'è anche il previous o il prev o il tutti i precedenti è quello che si ottiene quindi è questo un bel niente perché ho sbagliato qualcosa ah prev ok va bene vedete aggancio il convertibile tutti i precedenti quali sono ma allo stesso livello quindi i fratelli che sono dentro atletica outdoor e indoor e con questo vi dico che ci rivediamo alla prossima